buongiorno a tutti è l'una dal toilettatore eccola questa dal toilettatore tutta profumata adesso siamo in un bar e quindi intenta i vari movimenti su patatona su e l'ho messo questo bel fiocchietto tutta profumata eccola che è partita ho fatto il filmato ecco l'una dal toilettatore con il fiocchietto tutta profumata vedo firma mettetele qua luna su to c'è il bel cornetto ciao ciao